Le scuole a Pesaro riaprono ma i lavori continuano. Tutto in accordo con dirigenti e sotto la supervisione dei tecnici affinché si possa garantire la sicurezza e la serenità di un anno scolastico privo di intoppio o di disturbi. Per questo motivo il giro di visite dell'amministrazione comunale è partito proprio dalla scuola Manzoni che nei giorni scorsi era finita al centro di alcune polemiche. Un messaggio chiaro dunque quello che è arrivato dalla sindaco Biancani. Nel giro di questa mattina stiamo facendo, sto verificando, ci sono scuole nuove. Noi siamo passati da diversi anni fa dove il problema delle scuole era la possibilità di fare piccoli lavori per renderle agibili. Oggi stiamo parlando di demolizione di scuole e realizzazione di scuole nuove. Ovviamente questo grazie al fatto che l'amministrazione precedente è riuscita a reperire molte risorse, in particolar modo i fondi comunitari o fondi statali, ma è anche grazie all'amministrazione che ha avuto la forza di partecipare a questi bandi e poi riuscire a prendere le risorse. Per tutto il resto, cioè dove non facciamo strutture nuove, perché ovviamente non da per tutto necessario, stiamo cercando di rendere e mettere soldi appunto per la manutenzione. Già la prima variazione di bilancio che abbiamo fatto a fine agosto, primi di agosto, è stata una variazione improntata quasi esclusivamente con risorse destinate per la messa in sicurezza o per la qualificazione delle scuole e degli asili. Non abbiamo messo soldi per altro, quindi abbiamo messo i soldi per scuole, asili e impianti sportivi. Almeno quattro edifici scolastici nuovi, cioè nuovi e nuovi fabbricati. Solo la scuola Manzoni parliamo di circa 6 milioni di euro, quindi in realtà in questi prossimi anni noi troveremo scuole dove abbiamo speso decine di milioni di euro per rendere o per farle nuove o per renderle più sicure. Altro tema che viene poi affrontato è quello degli asili, dove il sindaco afferma che l'amministrazione sta lavorando ad un nuovo piano per poter ridurre il numero delle persone in lista d'attesa. Siamo partiti con circa 140 persone in lista. L'obiettivo è, ho dato l'obiettivo all'assessore, alla struttura di rifare tutti i conti, di ripensare al servizio. Il mio obiettivo, non so se ce lo farò, è quello che già dall'anno 2025 riuscire a mettere a disposizione più posti, perché da una parte dobbiamo andare verso un percorso che porta anche alla statalizzazione di alcuni istituti, di alcune scuole, questo ci consentirebbe di liberare risorse e di poter dare più posti anche nei posti rispetto alle scuole comunali. Quindi da una parte dobbiamo verificare che tipo di percorso fare con la statalizzazione, dall'altra parte dobbiamo capire che tipo di riorganizzazione all'interno delle scuole comunali fare. La gestione, come dire, la testa e la regia, il percorso educativo e formativo deve rimanere in capo al comune, ma il nostro obiettivo deve essere anche quello di riuscire a dare più posti. Per fare questo dobbiamo rivedere un po' il modello che abbiamo messo in piedi fino ad oggi.